Buongiorno a tutti, se non me che continuiamo con Final Fantasy 7 Remake, siamo al secondo capitolo, incontro inattesi, settore 8. Questa è una mercella di 8, più di 107 ore della pattaforma, scelto con lo stile architettonico, moderno per il meroso iniziativa ultima, tra cui l'estimento annone delle Ceremonici. Questa è che abbiamo fatto, e con un po' di scopo che mostrano, credo che potrebbe aver fatto l'escrizione. Ho seguito le informazioni per la lettera, magari ha trattato una reazione con Amako? No, speriamo che la città è ancora in un paese. Ma il plan è quello che importa, certo? Non, non c'è tutta la città. No, non c'è tutta la città. Non, non c'è tutta la città. E' un po' di scopo che non si riuscano. Ma la città è tutta la città. E' un po' di scopo che ci si resta. Allora, andate. Andate la città. E tu? E tu? Non c'è tutta la città. Guardate le live wire, sono in tutto. andate, uno in tutto. Or sound. E uno in tutto. E questo è quello che veng sahi a questo. E l'esternic stesso? E' un po' di scopo. E' un po' di scopo che entra nel giro, sono comunque piaciù. E' un po' di scopo che non ha dimenticato. E' un po' di scopo che ci ha detto. Sì, senti questo in me. E poi continui a arrivare. Ci siamo necessiti fuori di questo posto. Era era la densità Mako? Il esplosivo primario? Il agente di blasto? Hey, possiamo farlo in più. Mi sto cercando a scoprire qui. Tu puoi riepire a base. Nel prossimo, dovrei prendere un piccolo piccolo. Quanto più lungo dovremmo andare? Non più lungo! Non più lungo! Questo è quasi un po' un posto che c'è! Stai qui, allora! Siamo iniziando la bomba! Non mi aspetta a vedere, Marlene! Non mi aspetta a prendere un caldo! Non mi aspetta a prendere un caldo! Non mi aspetta a prendere un caldo! Si è bella! Si è bella che ok... Sembra la porta! Chettate che un mercato! c'è qualcosa che si arriva a me Atenzione a tutti i cittadini! Atenzione a tutti i cittadini! Questo è un'allertata da l'operazione dell'operazione di Shinra. Non identifiche introdotti hanno detonato una bomba dentro del macro-reactor 1. Molti esplosioni sono confermati, come un'attività. In rispondenza, un'attività di risposta è stata usata in settori 1 e 8. Stutture in l'area sono a rischio di colapsare, rendendo il settore un'attività. Inoltre, tutti i cittadini di settore 8... Non, non capisci... Questo non potrebbe essere noi, non potrebbe essere? Ma cosa se fosse? Ciò che è fatto è fatto. Il merc è vero. Non è bello, ma non possiamo fermare ora. Questo era solo il primo reattore, e il planeto non sarà sicuro fino ad arrivare il resto. Sì, sempre c'avamo che questo sarebbe diventato. E questo è solo il principio. Tessi dovete guardare l'area più grande. Nogetà di l'attività non c'è nessun sacrificio. C'è nessuno che non si tratta. C'è nessuno che non si tratta. C'è nessuno. C'è nessuno. C'è nessuno. C'è nessuno che non si tratta. C'è nessuno che non si tratta. Vado a lasciare acqua a saltare tutti l'acqua, e non vedo come ha colpa da loro. Questa base. C'è qualcosa di più. Sì, sì. Il fatto è che sei fortunato che tu sei qui. Il risultato può essere un problema di fortuno o di skillsi. E tu non puoi imparare sui fortuni. Cosa per vivere. Sì, beh, grazie. Tu sai come usare, certo? Tu sai come io, certo? Bene. Sì. Tengono. Seguire. Seguire. Alla prossima. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Grazie a tutti. Il centro di operazione. Un ordine di evacuazione è stata messa per gli obiettivi in la vicinità del Sector 8. Voi consigliere che evitare l'area immediatamente. La scuola in il reattore ha causato molte volte. Ho provato a lavorare. Faccio quello che ti piace. Mi prendo i bambini per salvare loro. Questa è stata messa. Ma non si è successa. Ci fanno riuscire chiamare le tassi se prepari. oh la london now i need to do that job Tu sei troppo forte per salvare a qualcuno Non anche te stesso Sei ok? Sei ok? Sei ok? Sei ok? Sto bene Qui, questo è per te Cosa? Cosa? Certo, è un gift Sai, per scurire queste cose Che cose? Non so, pensi di come un momento Justi che Ho sentito, sai Quanto? Molto Beh, questo dipende del cliente Nel tuo caso È sulla casa Cosa? Cosa? Ed è lato Cosa 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 Quindi guarda la distanza Aspetta, pensi che qualcuno è arrivato a te prendere? C'è quello che ti stai lavorando? Lassate, nessuno sarà a te attaccare, mi prometto Hey, un reattor di Mako è proprio blu Tu non dovresti essere qui cercando di... Help me! What are they? Drop your weapon! Are you blind? You know, you're right Wait! Nice meeting you! Sword on the ground! Right now! No holding back That's better Enough! Sia Nothing to it That bastard couldn't have gotten far Stay alert! Don't want to stick around here There he is! We're not going anywhere! 8-0 Set to race unit 4 We have eyes on the target You need backup We're prepared Let's do this Let's go Just give it up Let's get this over with You're done No holding back All right Got you! 8-0 Target's tighted A repeat Target's tighted Screw you! Star troopers Come to a meeting deployment Troopers on standby Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.